L'aeroporto d'Abruzzo perde almeno per ora il collegamento con Milano. ITA, l'ex compagnia aerea di bandiera rilevata per una quota dalla tedesca Lufthansa, ritiene che la linea sia troppo costosa. Già sospesi i voli in partenza per l'Inate e da domani saranno interrotti anche gli arrivi. Luigi Di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria, chiedi Pescara. Confindustria è preoccupata? Assolutamente sì. Noi il 26 luglio scorso abbiamo inviato una missiva esprimendo tutte le preoccupazioni del caso perché l'abbiamo inviato naturalmente alla Saga, alla ITA e l'abbiamo inviato anche al Presidente della Regione Abruzzo Marsiglio. I numeri ci dicono che questo è un volo molto importante per i cittadini e per gli imprenditori e manager abruzzesi che devono andare a Milano quotidianamente e è diritto dei cittadini e delle imprese conoscere i motivi di questa sospensione. Probabilmente voli troppo costosi alla base di questa decisione dell'ITA. Sì, voli costosi ma in qualche modo programmi molto differenziati che non hanno un senso logico rispetto all'abbassamento dei costi che oggi noi troviamo per il carburante ad esempio ma anche di recupero di determinati costi sui prodotti di consumo che loro necessariamente devono avere a bordo. Si temono dunque risvolti negativi sull'economia unanime il grido d'allarme lanciato dal mondo dell'imprenditoria abruzzese. Quanto può fare la politica? La politica in questo caso può fare molto perché in qualche modo ha un senso definire sia a Bruxelles ma ancora più nel nostro governo quali sono le priorità di questa regione. Le priorità logistiche e infrastrutturali fanno sì che questa regione possa per i prossimi 40 anni garantire uno sviluppo economico importante. Tutto questo sta di paradosso se vogliamo perché a settembre dovrebbero partire i lavori per l'allungamento della pista all'aeroporto. Assolutamente sì, noi dopo un quarto di secolo cominciamo a pensare che questo aeroporto possa non solo svilupparsi come ha già fatto per i viaggiatori ma anche per le merci proprio grazie all'allungamento della pista e alla trasversalità terreno-adriatico. La logica est-ovest e quindi in qualche modo Civitavecchia, Ortona, Pescara, Proce sia la logica che faccia sviluppare anche il nostro aeroporto.